ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo tutorial di filmora 10 questa volta andremo a vedere come impostare un video come inserire i nostri file multimediali e varie funzioni iniziali come gli effetti titoli ed altro ok ovviamente ovviamente la prima cosa da fare è avviare il nostro filmora 10 e questa sarà la nostra prima interfaccia che ci verrà visualizzata sul lato destro abbiamo tutti i vecchi progetti portati in libreria oggi dobbiamo vedere come creare un nuovo progetto la prima cosa da fare è selezionare il rapporto d'aspetto del nostro video ovvero che formato grafico dovrà avere il nostro video abbiamo la possibilità di scegliere il nostro 16 noni widescreen che attualmente è quello più utilizzato e altri vari rapporti se i nostri video devono essere principalmente visti su canali per esempio youtube o sul nostro televisore vi consiglio sempre di utilizzare il 16 noni widescreen a questo punto possiamo cliccare sul nuovo progetto una volta fatto questo chiudiamo un attimo ad icona creiamo una cartella sul nostro desktop e la rinominiamo prova all'interno di questa cartella andremo a mettere i nostri video i nostri file audio e delle immagini quindi tutto quello che vi è necessario per montare il vostro video anche anche successivamente quando per esempio dovrete come dire salvare il vostro progetto per poi riprenderlo vi consiglio di andare a salvare tutti i file all'interno della cartella che state utilizzando ritorniamo all'interno di film ora vado in i miei progetti quindi creo una nuova cartella e la rinomino anche questa prova una volta fatto questo il primo lavoro da fare è andare ad importare all'interno della nostra cartella prova tutti i file di cui abbiamo bisogno quindi selezionerò tutto e cliccherò su apri come potete vedere film ora ci ha precaricato tutti i nostri file abbiamo la possibilità come abbiamo visto in precedenza di andare a modificare la vista dei nostri file possiamo dire a film ora di farmi vedere solo i file video i file immagine o i file audio la prima cosa che andremo a fare è inserire il nostro file video all'interno della nostra timeline si aprirà una schermata dove ci dirà la risoluzione o la frequenza di fotogrammi dei file multimediali non corrispondono alle impostazioni coerrenti del progetto desideri cambiare le impostazioni del progetto per adattarle a quelle del file multimediale? cosa vuol dire? vuol dire che il file video che io ho caricato o non è un file 16 noni o non è un file 1920x1080 o è un file che lavora al di sotto dei 25 fotogrammi al secondo a noi interessa il formato 1920x1080 a 30 fotogrammi al secondo e quindi andremo a selezionare adatta file multimediale perfetto il file è stato inserito nella timeline e riusciamo già a vederlo in preview infatti cliccando la barra spazio sulla nostra tastiera in preview andremo a vedere il nostro video ok ora andremo a lavorare sulla funzione taglia supponiamo che a un certo punto del nostro video io voglia inserire una transazione quindi ad esempio voglio inserire questo tipo di transazione cosa andrò a fare? andrò a selezionare il punto esatto dove voglio che vada a inserire la mia transazione cliccherò sull'iconcina delle forbici come potete vedere il file si divide in due parti a questo punto io non farò altro che prendere la mia transazione e trascinarla letteralmente sul mio file video a questo punto c'è da dire che io avrò tre possibilità posso mettere la mia transazione appena inizia lo spezzone della seconda parte tagliata del mio video posso portarlo al centro dei due spezzoni e posso portarlo alla fine del primo spezzone del video che ho tagliato io deciderò di metterlo al centro una volta fatto questo nella nostra transazione ci sarà un sottomenu che adesso andremo a vedere clicchiamo due volte sulla nostra transazione e comparirà il nostro sottomenu la prima cosa che noterete è il tipo di sovrapposizione ovvero quello che abbiamo detto prima adesso io ho la mia transazione impostata al centro di due spezzoni di video posso portarla sulla sinistra posso portarlo sulla destra poi posso andare ad impostare la durata della mia transazione ad esempio facendo partire il video questa transazione durerà perfettamente due secondi se invece io vado a modificare questa transazione sarà tutto più veloce oppure ovviamente posso far diventare tutto più lento questo lavoro io posso andarlo a fare per qualsiasi transazione che ho caricata all'interno di filmora o che andrò a caricare successivamente inoltre se io nel mio filmato inserisco per dire dieci transazioni e voglio andarne a modificare il tempo di una ad esempio posso andare a dire applica tutto e lui andrà ad applicare questo tempo a tutte le successive transazioni quando abbiamo finito possiamo cliccare su ok stesso discorso lo andremo a fare per i nostri titoli andremo a selezionare un titolo che più ci aggrada ad esempio questo e anche questo lo trasciniamo proprio come abbiamo fatto e con la nostra transazione come potete vedere come potete vedere posso andare a mettere il mio titolo sopra il video e il video si dividerà in due parti ok torniamo un attimo indietro prendo il mio video posso andarlo a mettere sopra il video la quale sto lavorando e ci sarà una sovrapposizione del nostro titolo sul nostro video come potete vedere invece al contrario se voglio andarlo a mettere sotto il nostro video Filmora non ce lo farà fare perché il programma dice è inutile che prendi un video al di sotto della clip alla quale stai lavorando quando inseriamo un titolo anche qui cliccando due volte sopra si apriranno due sotto menu il primo ci darà la possibilità scala di ingrandire senza perdere le caratteristiche del nostro titolo abbiamo ruota possiamo ruotare il nostro titolo e abbiamo la possibilità di cambiare la posizione sia sull'asse X ovvero destra e sinistra e sia sull'asse Y ovvero su e giù mentre invece sul lato sinistro il menu sarà preset animazione e avanzate perfetto andiamo a vedere uno alla volta per quanto riguarda il preset abbiamo un attimo che andiamo a raddrizzare a lui abbiamo la possibilità di andare a modificare il nostro titolo ovviamente quindi cliccando sulla prima parte del titolo possiamo scrivere il nostro testo cliccando sulla seconda parte del nostro titolo andremo di nuovo a modificare quest'altra parte del testo ricliccando sulla parte ciao e tenendo premuto la freccia cambia a questo punto possiamo andare sia a modificare noi a mano il nostro file il nostro titolo ruotarlo scusate ruotarlo ed avvicinarlo all'altro testo cliccando sulla prima parte un attimo solo cliccando sulla prima parte del nostro titolo possiamo andare a cambiare il tipo di carattere cambiare la dimensione del carattere oppure metterlo a mano poi abbiamo vari tipi di formatazione testo come troviamo principalmente ad esempio in Word, Excel PowerPoint e così via quindi possiamo inclinare il nostro testo possiamo mettere il grassetto e così via da quest'altro lato invece abbiamo dei preset di colore cliccandoci sopra il nostro testo cambierà colore inoltre nella sezione avanzate scendendo nel nostro sottomenu possiamo andare a cambiare il colore del nostro testo la spaziatura tra i caratteri l'interlinea e ovviamente l'allineamento attraverso questo comando possiamo andarci a muovere sui livelli del nostro testo e l'opzione trasforma è tutto quello che abbiamo visto in questo menu e alla fine abbiamo il menu composizione possiamo scurire e il grado di opacità del nostro testo a questo punto ci spostiamo in animazione ok ragazzi andando ora nella sezione animazione selezioniamo la parola ciao e io posso decidere di non avere nessun tipo di animazione visto oppure posso andare a modificare la mia transazione andando sopra al tipo di animazione ci verrà fornita una preview dell'animazione stessa proviamo questa a questo punto possiamo andare a vedere i menu avanzate perfetto allora generalmente tutte le transazioni si dividono in viola ovvero tutte le parti che noi andiamo a scrivere nel nostro titolo mentre invece quello verde generalmente sono le forme ok all'interno del menu avanzate abbiamo sia i preset che abbiamo visto prima la parte di personalizzazione che abbiamo già conosciuto e la parte di animazione vista prima abbiamo tutta l'interfaccia di formattazione del nostro testo e qui abbiamo un'ulteriore timeline all'interno di questa timeline noi cosa possiamo fare possiamo andare a modificare tutte le parti dei nostri titoli ad esempio questa parte qui io posso andare a ridurla posso fare in modo che ciao parta successivamente e anche sulle forme possiamo andare ad agire sul tempo di durata un'ultima cosa come potete vedere possiamo trovarci degli indicatori con questi invece andiamo a impostare quando deve partire e quando deve terminare scusate ho sbagliato la mia transazione ad esempio se io riduco notevolmente questo valore visto come potete notare cambia ancora il tipo di movimento una cosa che ho dimenticato che non abbiamo visto prima in personalizza scendendo verso il basso selezionando quale voce quale parte del titolo vogliamo andare a modificare possiamo aggiungere anche un bordo dagli un'opacità sfogarlo dargli modificargli la dimensione possiamo dargli un'ombra possiamo cambiare il tipo di ombra cambiare il colore alla nostra ombra idem modifichiamo il suo grado di opacità sfogatura e distanza perfetto nel momento in cui abbiamo finito di lavorare sul nostro titolo possiamo cliccare su salva come preset e dargli un nome in modo che questo nostro preset possiamo andarcelo a ritrovare come preset nostro personale all'interno dell'interfaccia titoli quindi il mio preset 1 clicco ok mi assicuro di aver terminato e clicco nuovamente su ok ovviamente noi possiamo successivamente andare a rimodificare il nostro titolo nel caso in cui ne abbiamo bisogno clicchiamo su titoli e nella cartella personalizza noi ci andiamo a ritrovare il nostro preset salvato una cosa che non abbiamo detto ragazzi nella sezione avanzate è che questo tempo io non posso aumentarlo e siamo fermi a 4 secondi e 0.5 questo tempo in realtà può essere aumentato per aumentarlo dobbiamo cliccare nel titolo della nostra timeline aumentare o diminuire a seconda di quello che volete fare quindi se l'ho morto a 10 secondi e rientro in avanzate vedete fino al valore impostato ok abbiamo inserito una transazione abbiamo inserito un titolo a questo punto cliccheremo su file salva progetto come e vi ricordo di andarlo ad inserire nella nostra cartella dove precedentemente abbiamo inserito i nostri file audio video e foto possiamo rinominare il nostro video clicchiamo clicchiamo su salva e come potete vedere all'interno della nostra cartella si sono creati due file questo questo qui sarà il file che andremo a riprendere nel prossimo video dove andremo a parlare di come inserire e modificare gli effetti gli elementi e gli split screen bene ragazzi mi raccomando continuate a seguire questi tutorial e non vi dimenticate di aggiungere un like iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina ciao ragazzi ciao